Ok, tra un anno e l'altro, settembre e settembre, pure comprando la Fiorentina, i nostri debiti sono più bassi di un anno fa. E incluso in questi debiti c'è l'investimento che abbiamo fatto con la Fiorentina. Ok? Due, questo semestre siamo al novantunesimo finno, semestre dell'anno, novantunesimo consecutivo di revenue growth. Sì, di aumento dei profitti, di aumento dell'entrata e dell'entrata.